I just want you Nessuno può mettere becco sul mio. Non mi faccio mettere i piedi in testa, e non mi prostro pur di stare davanti allo schermo. Vado in trasmissione per portare la mia professionalità non per fare il personaggio, così a distanza di un anno, nella puntata del 13 giugno di Detto Fatto, riecheggia l'eco dei dissapori tra la balivo e Nalli. Durante il tutorial dedicato al tema Air Fashion, la conduttrice ha uno scambio di battute con il parrucchiere Stefano Bonomi. Ospite del tutorial è una ragazza di Roma, che ad un certo punto esclama in intercalare romano. Che è sta roba? Di domanda, aperte virgolette. La balivo scoppia a ridere e commenta. Avevo quasi dimenticato l'accento romano continuo ad Onomi. È l'ultima volta che ho sentito questa frase la diceva, K in K o con accento grave, aperte virgolette. Il breve scambio di battute, crea un successivo istante di imbarazzo in studio. Interrotto da Caterina che aggiunge, quasi mi mancava, ma non so. Chiuse virgolette. Cosa sarà mancato, o forse no, alla conduttrice, l'accento romano o l'ex tutor? Dobbiamo aspettarci una replica di Kiko. Aspetteremo. Cosa sarà mancato, fotocredits Instagram.